Non ci troviamo in qualche remota località dell'Africa, bensì a Montale, periferia est della città. Qui, proprio a ridosso della pista ciclabile sotto al cavalcavia della tangenziale, frequentata di giorno anche da mamme e bambini, è stato scoperto un cesto contenente resti di animali uccisi insieme a frutta e numerose bottiglie di alcolici. Le prove evidenti di un rito di natura voodoo, antico rituale appartenente alla sfera dell'esoterismo utilizzato dalle mamman nigeriane, ex prostitute di una certa età, che dopo una lunga esperienza sulla strada spalleggiano gli sfruttatori nella recluta delle ragazze per assoggiogare le donne, spesso giovanissime, arrivate dall'Africa con la promessa di un futuro migliore. Nella maggior parte dei casi queste ragazze partono con la speranza di una nuova vita e di un lavoro che permetterà loro di ripagare il viaggio che hanno intrapreso. Ma una volta giunte in Italia si ritrovano alla mercè di gente senza scrupoli che, proprio attraverso rituali fortemente radicati nella cultura tradizionale, le rende schiave, costringendole a prostituirsi lungo le strade cittadine. A Piacenza non sarebbe ad ogni modo la prima volta che questo argomento balza agli onori della cronaca. Nell'ottobre del 2012, infatti, un'indagine della squadra mobile di Frosinone stroncò un'organizzazione criminale che gestiva in varie province italiane, tra cui Caserta, Frosinone, Palermo, Parma, Piacenza e Viterbo, numerose ragazze, costrette alla prostituzione sotto minacce e violenze. Molte di loro confermarono di essere state indotte alla prostituzione con la forza e il sugello dei riti voodoo, che a quanto pare anche nella nostra città vengono nelle ore più buie della notte praticati.